Interrotto dalla polizia locale un evento abusivo con oltre 400 persone in zona Flaminia-Roma. Denunciata la responsabile e gli agenti del 15esimo gruppo Cassia durante un controllo per diverse auto in sosta d'intralcio in via Flaminia-Nuova hanno scoperto una festa in cui ballavano centinaia di ragazzi all'interno di un locale risultato sprovvisto d'agibilità, uscite d'emergenza e autorizzazioni delle autorità competenti. Gli agenti hanno intimato agli organizzatori di interrompere l'attività individuando la responsabile. La donna di 53 anni è stata denunciata per apertura di luogo adibito a pubblico spettacolo senza le dovute prescrizioni a tutela della pubblica incolumità. Nei suoi confronti sono state anche elevate sanzioni per la somministrazione irregolare di alcolici.